Bene, ciao a tutti, una domanda innanzitutto per iniziare, quanti di voi qui sono designer? Ok, quanti sviluppatori? Ok, va bene, non c'è problema perché tanto oggi ce n'è per tutti, perché parlerò nella prima parte del talk di contenuti e design, quindi dell'accessibilità dell'icone dal punto di vista dei contenuti e dei design, e nella seconda parte di come invece andare nello sviluppo più nello specifico a lavorarci sopra. Partiamo quindi a livello di contenuti e design. Una definizione fondamentale, due definizioni fondamentali ve le portate a casa, sono contento per oggi, la differenza tra quelle che sono le icone decorative e quelle che sono le icone semantiche. Ok, qual è la differenza e quali sono le definizioni? Diciamo che un'icona decorativa è quella che viene utilizzata esclusivamente per rafforzare il significato di qualcos'altro che è contenuto all'interno della pagina web. Diciamo che se la togliessi, un utente riesce comunque a navigare sulla pagina, senza grossi problemi. Diverso è il discorso nel momento in cui parlo di icone semantiche. Un'icona semantica invece è un'icona che trasmette in se stessa un significato. Se ho un'icona che viene utilizzata per una certa interazione, che deve essere utilizzata per indicare che viene effettuata un'interazione sulla pagina, ovviamente questa sarà un'icona semantica. Giusto per capire se è chiara la differenza, abbiamo dal lato sinistro l'icona del menu, con di fianco la scritta menu, e nel lato destro soltanto l'icona del menu. Quella a destra con solo l'icona del menu è semantica oppure è decorativa? Semantica, molto bene, dall'altra parte invece c'è quella decorativa. Tutto chiaro fino adesso? Perfetto, da questo momento in avanti il mio scopo è quello di distruggere tutte le vostre certezze. Vi spiego in che maniera. Vi farò vedere adesso una serie di 5 icone, una in fila all'altra. Quello che vi chiedo è di cercare di capire qual è il significato. Cercate di individuare a quale icona capite il significato della prima che vi faccio vedere. La prima icona che vi faccio vedere è quella di un globo terrestre. Ok? Qualcuno ha idea di che cosa sia il significato di questa icona? Tenetevelo per voi. Questa è l'icona di Facebook invece. La prima icona è quella che ci interessa. Se state capendo adesso qual è il significato della prima, buon per voi. Adesso abbiamo Twitter e successivamente Instagram. Adesso abbiamo invece le quattro icone del globo terrestre di Facebook, di Twitter e di Instagram. La domanda è a che passaggio, quante persone hanno capito qual era il significato dell'icona del globo terrestre al primo passaggio? Ok, beh non male. Quanti al secondo o al terzo o al quarto? Quanti all'ultimo? Quanti non hanno capito cosa significa? Ok, perfetto. Allora, quest'icona del globo terrestre è un'icona che viene utilizzata per indicare il sito web. Vero? Questa è un'interfaccia che è un esempio che è tratto da una delle più importanti testate di news italiane, televisive, in cui vengono fatte vedere le quattro icone prima una dopo l'altra, poi tutte di fianco, tutte affiancate. Io credo di averci impiegato una quindicina di giorni per aver capito che la prima icona era quella del sito web. Quindi chiarezza sul significato delle icone che state utilizzando a livello di ideazione dell'icona. Secondo esempio, questa è un'icona di una lente di ingrandimento. Che significato ha? Molto bene. Solo cerca? Anche zoom. Però attenzione, perché possono essere, ci sono alcune interfacce in cui vengono utilizzate contemporaneamente le due icone della lente di ingrandimento con significati diversi e ovviamente io devo fare in modo che sia comprensibile quale viene utilizzata in un caso e quale nell'altro. Ad esempio nel caso dello zoom posso mettere un più o un meno all'interno dell'icona per far capire che cosa sto andando a utilizzare. Terzo esempio che vi faccio, questa icona è l'icona che ha il significato di? Molto bene. E che cosa rappresenta questa icona? Vi sbagliate. È un distributore di bevande con una lattina appoggiata sul fondo. Questa è una cosa che è stata osservata da un ragazzo giapponese, molto giovane evidentemente, che non aveva mai visto un floppy disk. Però tenete presente, questo per farvi capire, che il significato delle icone può anche cambiare nel tempo e quindi può essere necessario che io debba adattare la mia interfaccia per far capire col passare del tempo come cambia in realtà il significato che io do a quell'icona. Ok? Un'altra cosa a livello di design che è molto importante, parlando di icone web e in realtà di qualsiasi tipo di contenuti web, anzi no, ci arriviamo dopo su questo, il contrasto. Ok? Fate attenzione se un'icona soprattutto è un'icona di tipo semantico deve avere un contrasto rispetto allo sfondo su cui la sto utilizzando. La pizza di sinistra non si riesce a vedere bene perché è colore rosa su fondo bianco, la pizza di destra invece che è un bel blu su fondo bianco sicuramente è molto 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 più chiara. Ok? Torno indietro, un attimo. Abbiamo a questo punto di nuovo la slide che avevo all'inizio con dal lato sinistro l'icona del menu con di fianco la scritta menu e dal lato destro soltanto l'icona. Qual è la più comprensibile secondo voi? Quella di sinistra, stanno dicendo in molti, quindi l'icona in cui c'è oltre che l'icona anche la scritta, non è detto che si possa sempre utilizzare purtroppo perché se io prendo in considerazione interfacce mobile in cui magari io devo mettere diversi elementi interattivi uno di fianco all'altro, allora in quel caso io devo per forza utilizzare l'icona da sola. L'altra alternativa potrebbe essere quella di andare a utilizzare soltanto la scritta menu invece che affiancare l'icona al menu. Secondo voi è una scelta buona? No, perché? Ok, no in realtà c'è un altro motivo, non solo per questione di contrasto, ma al di là del contrasto che in realtà è sufficiente per poterla leggere, forse è l'illuminazione dello schermo che non è il massimo. Ok, non è neanche questo, vi dico io la cosa perché va un po' per le lunghe, tenete conto che ci sono anche delle persone che hanno delle disabilità, o meglio dei disturbi dell'apprendimento. Parlo ad esempio della dislessia. Voi immaginatevi una persona dislessica, ci sono alcuni studi recenti fatti che dimostrano che in realtà l'utilizzo delle icone web, dal momento che l'icona è un disegno quindi più facilmente memorizzabile come simbolo rispetto alle singole lettere che compongono una parola, per i dislessici è più facile utilizzare, avere un'interfaccia in cui c'è l'icona di fianco alla parola. Quindi utilizzare solo la parola non è detto che comunque sia una soluzione. Ok, abbiamo finito con la parte di design, passiamo allo sviluppo e qui andiamo un pochino più nel dettaglio. Diciamo che esistono due modi fondamentali per andare a implementare le icone. Si possono utilizzare o degli icon font oppure degli svg. Qui vi ho portato quattro esempi di hamburger, in realtà l'unico hamburger che c'è vero e proprio è quello sulla destra, le altre sono tre icone con tre linee sovrapposte una all'altra, che però vengono chiamate in gergo tecnico hamburger, che rappresentano i menu. Di queste tre icone in realtà il file svg è uno solo, che è quello in terza posizione da sinistra. Il primo è un icon font e per essere precisi è una lettera dell'alfabeto copto. Il secondo invece è uno dei simboli che vengono utilizzati, dei trigrammi che vengono utilizzati soprattutto in Corea, in realtà se avete presente la bandiera coreana, nei quattro angoli ci sono quattro di questi trigrammi e questo è il trigramma del paradiso. Sono diversi modi con cui posso implementare o come icon font o come svg. Non esiste un modo che è intrinsecamente più corretto utilizzare quando si parla di accessibilità, ma bisogna adottare delle tecniche diverse a seconda che si utilizzi uno piuttosto che l'altro. Ok? Come si implementano le icone decorative? La risposta è estremamente semplice. Devo semplicemente andare a aggiungere un attributo aria hidden true all'interno dell'oggetto che mi descrive l'icon font piuttosto che l'SWG che sto andando a utilizzare. Nel dettaglio, se ho un icon font decorativo, vado semplicemente a mettermi un attributo aria hidden true all'interno dell'oggetto che mi descrive l'icon font, in questo caso l'icona della birra che c'è in alto a destra, e vado a utilizzarlo in questa maniera. Una nota su questa cosa. Sto utilizzando il tag span per indicare le icone che vengono utilizzate come icon font. Non usate la lettera I perché semanticamente ha un uso diverso e noi dobbiamo anche fare un uso corretto della semantica dell'HTML. A livello di SVG in line non cambia assolutamente niente, vado semplicemente ad aggiungermi l'attributo aria hidden true. Questo mi permette di nascondere alle tecnologie assistive l'oggetto che io sto facendo vedere, in questo caso l'icona. Ok? Se invece voglio andare a risolvere il problema delle icone semantiche, quello che devo andare a fare è semplicemente andare a inserire, un testo alternativo che mi indichi non tanto che cos'è l'icona che io sto inserendo, ma quello a cui serve l'icona che io sto inserendo nella mia interfaccia. Vediamo un esempio. Anzi no, prima vi presenterò la vostra migliore amica da questo giorno in avanti per quanto riguarda le classi di WordPress. Questa è una classe che è stata ottimizzata ed è inserita anche nel core del backend di WordPress, però potete inserirla tranquillamente all'interno del vostro tema, anzi vi consiglio di farlo se non l'avete ancora fatto. Tanti Visual Composer, Gutenberg eccetera eccetera ce l'hanno già al loro interno, per cui non preoccupatevene troppo, eventualmente andate a cercarvela e vedete com'è diversa. Cosa serve? Serve per fare in modo che un testo che io inserisco all'interno della mia pagina web venga sostanzialmente nascosto in maniera ottimizzata. Questo funziona ad esempio sia con testi che vengono scritte da sinistra a destra, scritture che vengono scritte da destra a sinistra, non avete problemi che ci sono con altri tipi di classi simili a questo qui. Vediamo un esempio pratico. Devo andarmi a costruire un'interfaccia di una compagnia aerea e devo andare a indicare in poco spazio qual è l'orario di partenza. Che cosa vado a fare? Mi vado a mettere un icon font di un aeroplano che sta decollando, ma aggiungo la classe aria hidden true perché non voglio far vedere l'icona perché potrebbe essere interpretata male dal browser. Dopodiché vado ad aggiungere in realtà una classe, un testo che è orario di partenza dell'aereo, lo nascondo visivamente per cui l'utente che riesce a vedere non ha, non si trova questo testo davanti che complicherebbe l'interfaccia e poi un testo che viene letto sia dagli in screen reader che dagli utenti normali che è 6.20 che è il mio orario di partenza. Un altro esempio può essere quello di un pulsante di ricerca che viene inserito all'interno della mia pagina. Nella stessa maniera semplicemente io vado a mettermi il pulsante, quindi il button, vado a inserire un testo che è ricerca. No, in questo caso scusate, mi sto confondendo. Allora, in questo caso lavoro in maniera diversa. Vado a nascondermi in realtà il carattere che mi rappresenta la lente di ingrandimento, quindi il carattere che mi rappresenta la ricerca. E vado a inserire nel button che in realtà mi contiene l'icona un'etichetta che viene letta soltanto dalle tecnologie assistive che è ricerca. Quello che stavo dicendo prima in realtà è questo tipo che è una variante rispetto a quella precedente in cui io vado a mettermi il pulsante che mi permette di effettuare la ricerca, vado a inserirmi due oggetti, uno è l'icona con, che però vado a nascondere utilizzando aria identru di nuovo, e un testo che invece vado a leggere. Potete utilizzare l'una, potete utilizzare l'altra, sostanzialmente equivalente. Questo sistema è un filino meglio perché vi permette eventualmente di andare a recuperare in altra maniera il testo che state inserendo come testo alternativo dell'icona. Quindi ad esempio se voleste anche creare un'etichetta che compare quando si fa l'over sull'icona stessa. Non utilizzate title perché è un po' più complicato la gestione dei title. A livello di svg, funziona in maniera molto simile, però è un pochino più complicato. Nel senso che io in cui nell'svg vado in sostanza a dire, vado ad aggiungere un'etichetta, due etichette in realtà, una che mi dà il titolo e una che mi dà la descrizione, quindi una versione corta, una versione lunga. La descrizione potete evitarla, ma la descrizione corta lascia il titolo, quindi lasciatelo sempre. E vado a inserirmi all'interno del file svg il titolo vero e proprio. Ok? A questo punto l'unica cosa che devo aggiungere in questo caso è un role immagine all'interno dell'svg. Perché gli svg non sono immagini e quindi non vengono interpretate come tali dai browser. Devo andare a indicarglielo esplicitamente. Una seconda versione alternativa di questa cosa è una versione in cui vado a nascondermi l'icona e vado ad aggiungermi un testo alternativo utilizzando la classe screenreadertext. E un'altra versione, in questo caso andiamo di nuovo con un pulsante, con un elemento interattivo, quindi di nuovo torniamo all'esempio del pulsante. Anche in questo caso o mi vado ad aggiungere l'area labeled by e vado a utilizzare il titolo all'interno della mia icona in formato svg, si può utilizzare per recuperare in questa maniera, oppure come abbiamo visto prima mi vado semplicemente a nascondere l'icona e mostrare il testo alternativo. Ok? Spero di avervi confuso per bene le idee. Qui trovate un po' di risorse aggiuntive da cui potete andare a pescare cum grano salis, perché in realtà ci sono alcune cose che non sono secondo me chiarissime, qualche errore in realtà in queste pagine c'è, però andate a vedere un po' di cose da cui ho pescato abbondantemente per preparare questa presentazione. Momento pubblicità, il mese prossimo ci sarà il World Camp Milano, siete tutti invitati a partecipare ovviamente, anzi guai a voi se non vi iscrivete. Sarà il 22 e il 23 di novembre, ci saranno tre track, per cui avremo ancora più talk tra cui potrete scegliere, ci saranno due track di talk veri e propri come quelli che state sentendo oggi e una track invece di workshop per cui potrete interagire in maniera ancora più diretta con la persona, con il relatore e ricordatevi che è anche l'ultimo World Camp d'Italia per quest'anno, per cui se no poi dopo mi sa che ci si rivede a Torino ad aprile del 2020. Qui trovate i miei contatti se avete bisogno di contattarmi, tanto sono in giro per tutta la giornata per cui potete sfinirmi di domande fino all'inverosimile, anche perché adesso ci sarà poco tempo per le domande e grazie a tutti le domande a questo punto mi sa che non c'è molto tempo. Una domanda.